Ringraziamo tutti per essere stati qui in questo giorno così bello e speciale, grazie Per il vostro affetto, il vostro denaro Edda Non so che dico Dovete battere le mani? Sì È occupato Zumbatti da un mano Ma parte? Sì Ah ma qua? Giusto Zumbatti da un mano È partita già, è partita Aspetta Partito Da dove dobbiamo parlare? Da qui Zumbatti da un mano Ragazzi questo lo metteranno È partita già È partita Tanti 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 Zumbatti da un mano Auguri spazi Auguri spazi È partita Bellissima Come si fa a capire se è partito Zumbatti da un mano Ciao ragazzi Tanti auguri per il vostro matrimonio Ma sei troppo seriosa Tanti auguri per il vostro Questo giorno è fantastico Vi vogliamo bene Noi È partita già Siamo dentro? Partito? Noi non sappiamo se adesso funziona Da qui? Allora Ciao Grazie Maria e Martina C'è anche Francesco C'è anche Francesco Grazie di tutto Bella la chiesa Bello tu Entrone a terra Quindi ciao ciao Io non c'entro qua dentro Non mi vedono Ciao Auguri ragazzi Grazie di tutto Grazie Ciao ciao Grazie Ma parte? Sì Ciao Marti Grazie per averci invitato Siamo veramente contenti di essere qui Un grande bacio E buona vita insieme Auguri Adriano Auguri Martina Vi vogliamo bene Tanti auguri 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 Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri per la vostra nuova vita Ciao Belli come il sole Ciao 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 Guarda Il protagonista sei tu Come si fa? Ah ma qua? Un fattito di ali vai Un fattito di mano Ciao Martina e Adriano Grazie per averci invitato Siamo felicissimi E rimanete tantissimo con noi Auguri Tanti auguri Oh Auguri Adriano Abbi pazienza Il nostro cugino le vogliamo bere Ma E' fatta così Vabbè hai tolto il guai a qualcun altro Tanti auguri Tanti auguri Da dove dobbiamo parlare? Da qui? Ah ma proprio video Ma seriamente? Possiamo iniziare Un fattito di mano Un fattito di mano Un fattito di mano e parte la telecamera Partita la telecamera Partita la telecamera Partita la telecamera Un saluto a Martina Eh Un saluto a Adriano Un saluto a Adriano Un saluto a Adriano Eh Adriano ne hai saluto da prima Eh no sennò credere che E' per un'altra coppia Ma è un messaggio Un messaggio Devi dire qualcosa che devono iniziare da oggi Devi dire qualcosa Ragazzi sono invidioso Molto molto invidioso Per cosa? Per voi Per la giovedù E' un messaggio da prima Ma è Ma per il matrimonio Sei geloso del matrimonio? No Ti vuoi sposare? Ho un'invidia positiva Che Loro sono Belli Felici E' innamorati E' innamoratissime Ok Provi E continuate Tete Tette Dobbate battere le mani C'è nera no 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 C'è nero no C'è nero no C'è nero no vuole tempo! Ottimo! Stiamo cercando! E niente noi ti ricorderemo per sempre così! Ci vuoi ammazzare? E niente! Via! Via! Che ci vuoi dire? Già Silvano! Eh beh avete battuto le ragazze! Sono un più regista! Ciao Martina! Auguri! Ciao Martina! Ciao Adriano! Siamo molto contenti! No lo dico io! Lo dico io! No vabbè dico io! Gennaro vedevi dire una cosa! Tanti auguri! Gennaro vedevi dire una cosa! La raccomandazione! Dico tutto io! Eh aspetta che ci riesce! Io dico la stacca! Ciao Martina! Ciao Adriano! Tanti auguri! Gennaro vi deve dire una cosa! La raccomandazione! Cari ragazzi che sono anzianotti! Cari ragazzi! Mi raccomando! Non dovete usare più le precauzioni! Martina sa che cosa voglio dire! Alimentate il vostro amore! Non fate come è successo a tanti di noi che non alimentando la pianta si è seccata! Non seccata! Si è un po' ammorbidita! Mi raccomando! Tanto bene e tanta passione! Anzi amore! Siamo tutta passione! Ciao tanti auguri! Ciao Martina e Adriano! Tanti auguri! Ci auguriamo tante belle cose! Ovviamente auguri a figlie femmine! Ciao Martina! Aguri! Gennaro presentati! Allora di nuovo ciao Martina! Di nuovo ciao Adriano! Ho saputo che non avete mancato una postilla sul contratto di matrimonio! Quello di mangiare più volte a settimana! Ma non il mangiare mangiare! Quel mangiare è là! Questo è il quarto video che facciamo! Non perché siamo... Obbriani! Esibizionisti! Obbriani! È perché sicuramente ci taglieranno! E qualche cosa devono pubblicare di loro! Almeno uno lo beccano! Grande crescimento! Ciao ragazzi! Ciao! Amuri! Siete bellissimi! Stupendi! Favolossimi! E quindi stasera Adriano mi raccomando! Si zuppa il biscottino! Ciao! Ciao! Che figura di merda! Scusa! E abbiamo contato! Auguri! Auguri! Figura di merda! Ma dico io! Dico io! La nostra lezione non vi è passata! Vi siete voluti sposare! Avete voluto toccare con mano! E adesso? E adesso? E rimaniamo così! Però ti sei tranquillizzata! Sei più felice di me! E mi raccomando stasera eh! Mi raccomando! E? 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 Figura di merda! Vai! Non so se è partito ma se è partito del secondo video che stiamo registrando! Tanti auguri! E? Grazie per averci invitato! Siete bellissimi! Vi vogliamo bene! Un bacio! E non so se questo è il secondo video perché prima ne abbiamo fatto un altro! Ciao! 5 th qualities! Auguri! Ma non t'hai seguita? Ma non t'hai seguita! 5 th 등os! Auguri agli sposi! Auguri! Un bacio Martina! Tanta felicità! Caselo a me da me! Già… Guardate un po' chi vi ho portato! Cosa gli vuoi dire a Zia Marti e Zia D'opo? Cosa gli vuoi dire? Figura di me Zia Marti È bella Diggielo, tanti auguri Mandagli il pacetto Tanti auguri Che possono fare una vita matrimoniale Come l'ho fatto io Eh Voglio che questi due sposi Possano fare Possano fare La vita matrimoniale Come ha fatto la nonna E poi vai nell'accensione Sì, ok, siete pronti? Via Un bacione dal tuo zio preferito Auguri È cresciuto per Marti Tanti auguri ragazzi Buon matrimonio Buona giornata Andrea l'hai fatto la scelta migliore Eh, diciamo a me che la potevi fare di meglio Però non fa niente Dai, ragazzi Ancora tanti auguri Un bacio Adriano C'è C'è Federica qua che è timida Ciao Ciao Ma che è Ciao Aguri ragazzi Ciao Avete scelto la persona fantastica per dirigere la funzione che era veramente, veramente sentita e bella Ciao Martina, ciao Sposti! Gennaro, lui scherza, lo sai, l'età fa brutti scherzi, non so se che ti ha detto ma qualunque cosa abbia detto, perdona, perdona, ciao Martina, tanta felicità, auguri, felici sposi! C'è? No, no, capì, mi batte le mani. Vuoi stare sotto? In questo giorno speciale? In questo giorno speciale vogliamo dire che vi vogliamo bene. Dai Martina, non ti dico cento di questi giorni perché vuole sto maladriano. No, però siamo stati benissimo. C'è cento questo, cento matrimonio. Eh, cento matrimonio no, perché sennò ti fanno s'incazza. Dai. Vabbò, auguri. Tanti auguri e... Possi ad essere sempre felici come oggi. Inizia a... Inizia a destino il mio hair stylist. Solo? Le make-up party. E styler design. Come si dice? In diretta picchio Eric perché non voleva venire al mio matrimonio. Enrique Sincerno. E se tanta nata? Allora si rinunca la nostra parte. E 5 anni di un buonio pelo. E' rinérerato. Il northeast anche non ha avuto nimenti. ludzi entropyinessinessinessinessinessinessinessinessinessinessinessinessinessyco Lord Kelaskia in poilseriyon. Lei, lei non ti ama No E io non voglio vederti morire Brava E quale canzone? Per bacco e canta una canzone Una canzone d'amore per loro, per gli sposi Che li rappresenta? Questa è per Adriano e Marti Ma zog innamoratete Zopațe de zopațe de Stai rarene, te vai ciubișine Ma va subrimatul Ia lor zi Abrațe ma ciufo Perché pochi se ne puo Si tutto il tempo che è passato è tempo peo Finito Bravo Tanti auguri da Anzia Rosa e Gennaro Aspettate Ti facciamo tantissimi abusi E spero che la busta ti piaci Non si dice solo Grazie Arturo Ciao Adriano Stai attento e fai bravo Grazie Arturo Se no ce la vediamo a riprendere Hai capito? Grandi gesci mezzo Buonasera Ciao ragazzi E' stato un bellissimo abusi Bellissimo Amoriamo tanto amore e felicità A tutti e due Sempre così Anche se tu Adriano mi hai fatto penare Speriamo che non dev'hanno figli così Perché per 5 anni mi hai fatto morire Guarda che vedeva va Vedi? Questa è la riprova Arturo raccomanda Adriano C'è raccomandato Che non c'è di fare il bravo Se rompe la venta A riprendere E' giusto Un bacio a tutti e due Siete stati bellissimi Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Grazie per essere stati qui Per essere stati alla nostra festa bellissima Siete stati tutti fondamentali Non so che dico Ciao a tutti Grazie per essere stati presenti Nel giorno più importante della nostra vita Ringraziamo in particolare i nostri genitori Che ci hanno permesso di fare tutto questo E di crescere con tanto amore Poi i nostri parenti e i nostri amici Grazie a tutti Grazie a tutti È stata una giornata bellissima Ciao 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 Figura di merda Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.